8 partite dallo scorso 21 gennaio, da allora 5 pareggie e 3 sconfitte in 2 mesi. Tanto è passato dall'ultimo successo della regina che rivede i 3 punti e rinasce al granillo conquistando una vittoria importante contro la casertana. Due squadre che si presentano sul campo reduci da due momenti diametralmente opposti, detto delle difficoltà degli Amaranto alla ricerca della salvezza, da sottolineare il momento dei campani che si presentano alla trasferta di Reggio Calabria con 7 risultati utili consecutivi. A partire meglio sono i padroni di casa che hanno alla mezz'ora l'opportunità di passare in vantaggio con Bianchimano che a tu per tu col portiere cicca completamente alla conclusione, mancando la porta e non di poco. Il gol è però solo rinviato di qualche minuto, da un calcio d'angolo infatti battuto tra l'altro qualche centimetro più avanti da Provenzano, la Ezza stacca più in alto di tutti indirizzando verso la porta, Polak salva ma secondo l'arbitro la sfera. Ha già superato la linea di porta, il replay lascia più di qualche dubbio ma la casertana non demorde e trova sul gong del primo tempo la rete del pari. La firma è di Devena che arriva puntuale su un perfetto cross di carriero e anticipando tutti batte Cucchietto. Nella ripresa la regina comincia come aveva iniziato nella prima frazione e anche in questo caso il primo acuto è di Bianchimano che involatosi verso la porta non riesce ancora una volta a battere forte. Passano solo tre minuti e il duello personale tra il centravanti Amaranto e l'estremo difensore della casertana si rinnova ma stavolta al terzo tentativo è Bianchimano ad avere la meglio con una punizione insidiosa che passa sotto la barriera sorprendendo forte, in realtà in questo caso non impeccabile. Il nono centro in campionato dell'attaccante Scuola Milan chiude i giochi perché la casertana non riesce a reagire e anzi rischia di subire la terza rete ma viene graziata da un incredibile errore di Pasqualoni. Finisce dunque 2-1 per la regina che guadagna tre punti, ossigeno per la salvezza.